hey ciao salve gente ciao a tutti benvenuti nel mio nuovo canale ero da un po' che pensavo di aprire questo canale solo che non ho mai avuto il coraggio ero abbastanza timida lo sono ancora se si vede solo che avevo questa idea di aprirlo da un bel po' e alla fine ho deciso di farlo la scusa che usavo sempre era come lo apro? che con cosa inizio? siccome non sapevo con cosa iniziare ho deciso di fare un videotag che si intitola mi piacere quindi iniziamo subito con la prima domanda nome? jessica età? ahimè mi ho vingiato in giuro altezza? non ho idea una volta che ho vingiato altezza è stato un bel po' di tempo fa ma ero 1,67 circa e bisogna essere piaciuta in questo dato di tempo colore preferito? in dettaglio tanti però preferito preferito il blu e tutte le sue qualità stagione preferita? la primavera la temperatura inizia finalmente a svegliarsi e comincia a colorarsi tutto quanto quindi mi piace parecchio e soprattutto la temperatura è perfetta secondo me perché l'estate avanti è troppo calda e l'inverno è troppo freddo quindi la primavera outfit preferito? in realtà dipende dalla giornata o tutta nera o tutta colorata l'importante è che sia casual però dipende dalla giornata sport praticato e preferito? fino all'anno scorso praticavo hip hop e oltre a tutto è anche uno sport perfetto non vivo senza la danza e l'ho capito spesso quest'anno non praticandolo poi città che ami? ce ne sono parecchie beh italiane e amo Venezia che è la mia città io sono della provincia ma l'amo io cittadiniere non li ho mai visitate non sono andata fuori dall'Italia però mi piacerebbe paricchio l'Italia Londra New York Los Angeles e Tokyo ma dopo andremo a avere questa città basta andare fuori dall'Italia e visitarlo paesaggio che ami? a me piace sia il mare che la montagna ma ho una grandissima preferenza per la montagna è scoperta channel musicale che ami io amo qualsiasi tipo di musica però ho una preferenza per il rock ma ultimamente per il pop cantante maschio preferito Ed Sheeran assolutamente cantante femmina preferita ben innovato io la adoro la seguo da che è il rock io non ho mai sentito mi seguire ha una voce pazzesca e la stimolo dopo nel don ben preferita eh rock band e 30 second months invece di genere commerciale pop one direction però dopo ne ho vari ne ho molti altri però preferite preferite sono i 30 second months e i one action animale che ami che amo forse i gatti non lo so perché animale che odi è un insetto e sono le farfalle ho la fobia delle farfalle non posso vederle mi viene da piangere ogni volta che le vedo e se mi prendono la strada io mi blocco e mi manca il respiro quindi direi proprio le farfalle cosa ti piace guardare in tv ho una preferenza per i talent show e tipo x factor amici anche se ultimamente è andato sempre peggio e tutti gli altri talent hai un migliore amico o amica sì ho una migliore amica perché parto un canale in realtà mi sono appassionata al mondo di youtube da poco e la mia migliore amica ha iniziato a mostrare dei canali e da alcuni youtuber e un po' alla volta sono entrata in questo mondo e ha cominciato ad affascinarmi quindi dopo un po' di tempo ho cominciato a pensare se non mi piacerebbe fare questo mi piacerebbe fare quell'altro e quindi ho iniziato a partecipare in alcuni video della mia migliore amica e all'inizio ero molto timida questo sì non volevo farlo però dopo mi sono un po' riuscita ad andare e ci ho preso la mano e cominciavo a divertirmi quindi ho deciso perché non provo da più un canale mio e eccomi qua con chi ne ha parlato ha finito con la mia migliore amica che è stata lei ad insistere e penso di averle parlato insomma ho detto che avevo una bella idea a mia zia e e anche con altre mie amiche ma per il resto non sa nessun altro per la madre sono finita spero che questo video tag mi presento sia fatto di vostro gradimento il set è piaciuto il set è il mio primo video e sono emozionatissima molto e tutto di là c'è il mio fratello e non vale farmi sentire perché mi vergogna se vi è piaciuto il video lasciate un bel like commentate anche sotto se avete qualche consiglio o insomma ditemi cosa avrei pensato e soprattutto iscrivetevi a questo mio canale detto questo ci vediamo al prossimo video che arriverà molto presto stop stop Grazie.